Un giro di giovani romeni reclutati per diversi preti pedofili. A denunciare il tutto un ex sacerdote già condannato a cinque anni di reclusione proprio per reati sessuali e ora testimoni in un'inchiesta della procura di Roma. Patrizio Poggi, 46 anni, ha fatto agli inquirenti nomi e cognomi tirando in ballo anche Don Franco Gamaldo, originario di Lago Negro e attuale cerimoniere del Papa. Sulla vicenda ovviamente i PM della capitale stanno cercando di mantenere il massimo riservo, smentendo almeno per il momento che ci siano degli indagati. Secondo quanto raccontato dalla talpa diversi ragazzi romeni sarebbero stati adescati da un ex carabiniere nei locali notturni o nei pressi della stazione Termini o addirittura fatti arrivare di proposito nella capitale per poi prendere parte dei festini con preti pedofili in cambio di poche centinaia di euro. Se confermata la versione dell'ex sacerdote getterebbe nuove ombre sulla chiesa. Dietro le rivelazioni, secondo quanto trapelato fino a questo momento, ci sarebbe anche la grande voglia di Papa Francesco di dare un netto segnale di rottura rispetto al passato e portare alla luce tutti i misteri che il Vaticano sembra custodire al suo interno. Per adescare i giovani romeni, l'ex carabinieri avrebbe utilizzato delle automobili conscritte dalla parvenza istituzionale. I minorenni avrebbero poi accettato l'assurda offerta pur di guadagnare un po' di soldi. Negli anni scorsi Don Franco Camaldo era stato ascoltato dagli inquirenti in relazione ad una delle tante vicende oscure accostate al Vaticano, ovvero alla speriazione di Emanuele Orlandi, scomparsa 30 anni fa e mai più ritrovata. Nel 2006, infatti, quando era segretario particolare del cardinale Ugo Poletti, il sacerdote lucano era stato ascoltato in relazione alla presenza all'interno della basilica di Santa Pollinare della tomba di Enrico De Pedis, uno dei capistorici della banda della Magliana.